mi interessa invece molto di più, io prima ho letto il tweet di Padoan che parla di debito vogliamo ricordare al ministro Padoan che il debito pubblico del nostro paese non è diminuito è anzi esploso, oggi noi abbiamo il record assoluto di debito pubblico così come ricordiamo al presidente del consiglio, a Padoan, al governo che sulla disoccupazione i dati dell'altro giorno, abbiamo sfondato il 40%, il famoso 40% non per la maggioranza ma il 40% di disoccupazione, giovanile nel nostro paese, o il 12% di disoccupazione questo per dire che cosa? Che il paese sta soffrendo, io lascio al PD tutte le riflessioni e gli interrogativi che si vogliono fare, che si possono fare, nel frattempo mentre loro riflettono, discutono, primaria, governo, tutto il resto, c'è un paese che sta sprofondando c'è un paese che sta morendo, i fallimenti delle aziende quest'anno rispetto all'anno scorso sono aumentati del 20%, quando un'azienda fallisce non fallisce soltanto l'unità produttiva ma fallisce tutto l'indotto, quindi c'è un paese che complessivamente, ed è il motivo per cui io credo e ne sono assolutamente convinto che la società globalizzata, lo dicevo prima che doveva essere la panacea dei problemi e doveva essere lo strumento per fare crescita e sviluppo ha prodotto esattamente il contrario, disuguaglianza e povertà, ed è il motivo per cui noi vogliamo tornare in maniera molto serena, in alcuni paesi, in altri invece ha fatto uscire dalla povertà nel nostro paese invece ha creato la famosa classe media, oggi nel nostro paese la classe media non c'è più, il commerciante e l'artigiano, guardate io vengo da una zona, dalla provincia di Como, la provincia di Como, Como era città della seta, le aziende seriche erano un'eccellenza mondiale, le aziende seriche oggi a Como non esistono più, perché? Perché la globalizzazione e il mercato, la concorrenza sleale cinese hanno azzerato un settore produttivo che era una qualità, che era un'eccellenza del sistema paese, allora quel meccanismo e quella visione di società globalizzata ha fallito e c'è il vento che aspira in una direzione esattamente opposta.